Benavevo, buonasera. Cosa è mancato? Solo una traversa per vincere dopo due mesi una partita di campionato? Oppure potete metterci ancora qualcosa in più? È mancato qualcosa nel primo tempo? Sì, secondo me il primo tempo è mancato tutto. Il discorso è quello. Abbiamo fatto un primo tempo molto sotto tono, molto, e un secondo tempo invece di un livello molto alto, secondo me. E' quello il problema. Secondo me la squadra deve essere più equilibrata, mantenere un livello per tutta la partita e dopo è vero che ha mancato quel gol che secondo me abbiamo meritato per quello che abbiamo fatto in campo. Carlo? Ciao Adrian. Primo tempo Bernabé in linea mediana, recupera palloni, cerca di fare gioco. Secondo tempo sulla tre quarti il Parma migliora dal punto di vista offensivo. dove ti trovi meglio a giocare e dove ti piace di più giocare, obiettivamente? Se ti senti più utile in mediana dove hai giocato il primo tempo oppure nei tre quartisti, diciamo così? Sì, per il secondo tempo ho giocato mezz'ala, quindi no, no, c'ho la possibilità di fare entrambi i ruoli, entrambi posizioni e mi sento in grado di farlo, sono anche felice di farlo, quindi mi metto a disposizione della squadra. Ci sono partite che sono più facili di giocare in quel modo. Oggi per giocare davanti alla difesa era più difficile perché venivano uomo contro uomo, però niente, è a disposizione della squadra e quello che hanno bisogno io lo farò. Cominciano ad essere un po' tanti i punti persi in maniera strana in casa, no? Udinese, Cagliari, i punti persi oggi. Da dove derivano questi? Che natura hanno questi punti persi? C'è un po' di inesperienza? Si tratta soltanto di episodi? Vi pesano questi punti persi in casa? Sì, ovviamente ci manca la vittoria, ma non solo in casa, anche fuori, per quello che facciamo in campo ogni settimana. Ovviamente la partita contro Cagliari e contro Udinese sono diverse da quella di oggi. Con Cagliari abbiamo perso tre gol pure contro Udinese, oggi abbiamo subito cinque tiri in tutta la partita. Abbiamo creato tanto, purtroppo il calcio è così e ne dobbiamo continuare a insistere. Adrian, ciao. Dicevi prima che nel primo tempo è mancato tutto. A prescindere dai meriti di un Empoli che sicuramente ha fatto un'ottima partita, a tuo modo di vedere, perché siete mancati e dove siete mancati soprattutto? Perché arrivavamo in ritardo in tutte le situazioni. Non siamo stati aggressivi nella re-aggressione della palla, non siamo stati incisivi con la palla come nel secondo tempo. Nel secondo tempo praticamente abbiamo giocato tutto il secondo tempo alla sua metà campo, invece nel primo tempo eravamo un po' non aggressivi. Non siamo andati a vincere la partita, invece nel secondo tempo siamo andati a fare cinque gol e si è visto la differenza pure fuori. Una curiosità, i rigoristi di questa squadra ci sei anche tu nel lotto dei... Ho sempre Bonni, Benediccia, Kaman, per esempio oggi evidentemente era Bonni il designato, ma in teoria ci saresti anche tu tra quelli che possono battere il calcio di rigori in situazioni come queste. Sì, sì, io ho calciato tante volte la mia carriera a rigori quando ero piccolo. Sono a disposizione ovviamente, mi piacciono anche tirarli, però io, tutta la squadra, anche credo tutti, abbiamo piena fiducia in Bonni. Quello che è successo oggi è un caso perché contro il Napoli per esempio ha fatto un gol e secondo me non si deve sottolineare la prestazione che ha fatto perché ha sbagliato il rigore. Succede in tutti i livelli, quindi niente, solo ringraziare a lui per tutto quello che ha dato la squadra, non oggi, se non dall'inizio della stagione. Ciao Adrian, sono qua, ciao. Ti chiedo come è stato, come procede l'ambientamento in Serie A anche in queste partite, dove il Parma trova avversari più chiusi, ti chiedo anche tu come ti stai trovando e insomma se ci sono delle difficoltà in più ovviamente. Sì, sì, ovviamente si vede la differenza tra Serie B e Serie A, è ovvio, lo sapevamo questo, però devo dire che mi sta sorprendendo la squadra bene perché ci sono tante partite che noi portiamo il ritmo del gioco, che facciamo tante occasioni, che creiamo tanto e non è facile per una neopromosa che è così giovane di portare il gioco in tante partite, quindi è vero che i punti non pagano quello che stiamo facendo adesso, però la strada è molto lunga, mancano ancora tante partite, solo dobbiamo continuare in questo senso, però dobbiamo migliorare a fare l'ultimo passaggio bene, a calciare bene in porta perché è quello che al fine ti fa vincere la partita. Adria, a livello personale, settimana scorsa la traversa di Como, oggi ci ha riprovato un miracolo di Vasquez, prima o poi questo gol arriverà. Sì, sì, io non smetterò di provarci, quindi è vero che... in la linea di tutta la squadra, ci sono dei momenti, degli episodi che non stanno girando adesso al nostro favore e niente, e continuare a insistere perché il calcio è così, non fai un gol in due partite, tre partite e dopo fai quattro in due, quindi insistere ancora. Nel primo tempo abbiamo visto un parma che vadava forse un po' più a contenere, erano a disposizione o era la forza dell'Empoli? Sì, come ti ho detto, per me è stato un primo tempo sottotono, in questi sensi per me è stata colpa di noi giocatori, che non abbiamo approcciato bene i primi minuti, un po' di mancanza di aggressività, e quello ha fatto all'Empoli ripartire tante volte con pellicolo, anche se non hanno finito le giocate, e invece il secondo tempo è stato un parma completamente diverso. Ti aspettavi questo Empoli aggressivo che veniva a prendere alto? Sì, 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 noi sapevamo che loro vengono uomo contro uomo a tutto il campo, abbiamo studiato la squadra, abbiamo preparato questa partita, però dopo siamo noi giocatori che dobbiamo fare di più di loro per portare avanti la partita, credo che per 45 minuti, insomma 50, l'abbiamo fatto, però questo non è stato sufficiente per portare i tre punti. Però nel primo tempo ci sono visti degli errori d'appoggio, facili passaggi, molti errori, questo forse perché sentivate troppo la partita. Perché questo è calcio, si sbagliano dei passaggi, pure quelli che giocano a Madrid, a Barcellona sbagliano passaggi, sbagliano appoggi, quindi niente, quello che non può mancare mai, sì, troppo, capito, però quello che non può mancare mai è l'atteggiamento, ci riproveremo, ci alleneremo per non mancare troppi appoggi, e niente. Ciao Adrian, a proposito dell'atteggiamento, io non ho una domanda in particolare da farti, però una sottolineatura vorrei farla, hai già 3-4 partite che ti osservo bene e vedo che sei cresciuto tantissimo sotto l'aspetto difensivo, cioè tanti palloni recuperati ti fai trovare sempre nell'area di rigore del Parma, quindi in realtà non ho domande, ma i complimenti perché evidentemente è una tua maturazione calcistica e anche come persona, cioè sei un leader ormai in questa squadra e riesci a fare benissimo entrambe le fasi, quindi eri bravo prima, sei ancora più bravo adesso. Grazie, è vero che quando gioco lì più dietro serve anche fare del lavoro più sporco, più difensivo, pure quello lo devo ancora migliorare per diventare un giocatore più completo e come ti ho detto, mettermi alla disposizione della squadra sia più dietro che più avanti e niente, aiutare la squadra.